Grazie a tutti voi, gente semplice, gente che crede nell'umanità, perché io penso che fino a quando ci saranno persone che fanno i volontari in qualsiasi parte del mondo, forse c'è la speranza di non avere più le guerre, diciamo così. Questo è un momento importante di riflessione, perché proprio oggi persone semplici che donano il loro sangue, vuol dire che donano un pozzettino di loro stessi a chi soffre e pensano a un futuro migliore.